Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Andiamo al remix di Spizzo, non stiamo ascoltando ovviamente i reference che ho qui sotto per non infrangere il copyright di YouTube ed evitare che ci blocchino il video. Allora Spizzo come gli altri mi ha mandato degli stems, ascoltiamoli senza nulla. Allora in questo caso per prima cosa ho utilizzato uno dei miei EQ preferiti, forse il migliore, quello che preferisco di più sul Master ed è Airin di Acustica Audio. Sentiamo connessenza. Ritallo 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 Molto lo percepiamo immediatamente sulle medie, sulle medio-alte e sulle altissime. In questo caso infatti ho aperto come vediamo tantissimo di 3db i 20kHz proprio per avere molta più aria sopra al brano cosa che sentivo mancasse un pochino e ho enfatizzato un po' le basse di mezzo db diciamo a 20kHz quindi abbiamo un mix bilanciato in questo modo. Sotto troviamo sempre un incremento delle medie quindi sempre di un db circa a 700 che da un po' più di presenza allo snare. Ritallo Ritallo ovviamente c'è un aumento di volume ma la presenza che mi dà questo EQ sulle correzioni minime è veramente eccellente allora andiamo poi a vedere subito dopo ho soltanto aggiunto un limiter in questo caso non l'ho usato per alzare il volume quanto soltanto il suo algoritmo di widening per aprire un po di più il mix ed infine fire the clip per poter dare un po di punch e distorsione armonica al nostro master adesso che mi trovo in cuffia sto utilizzando come al solito sienna guru come vi ricordo con le mie audis lcdx proprio per avere sempre un riferimento ambientale ottimale questo grazie al listen bus di studio one e quindi sempre in relazione a questo mix come vediamo ho cercato di mantenere l'equilibrio del brano spostando soltanto un po di più l'aria che si trova nella parte alta del brano in sé e poi ovviamente aggiungendo clipping e distorsione per dare un po più di impatto a livello di transiente in questo caso il vice maximizer è stato utilizzato soltanto nell'algoritmo di widening senza alcun tipo di funzione di limiting spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito pro audio learning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella per il momento è tutto ciao a presto